torna alle stelle la tensione nel centro destra il centro destra va di nuovo in frantumi e la tensione altissima tra la lega e fratelli d'italia due i temi che stanno in queste ore lacerando la destra ormai ex sovranista il copa sir e il cdri sul comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti fonti del carroccio dopo la decisione del pd di non partecipare alla riunione di oggi per profili di illegittimità della presidenza lanciano un nuovo pesante attacco ad adolfo orso presidente del copa sir fedelissimo di meloni le dimissioni degli esponenti della lega dal copa sir avevano e hanno fondamento come confermato anche dal pd meglio tardi che mai anche a sinistra convengono che il copa sir ha bisogno di una guida equilibrata come è stata quella dell'onorevole raffaele volpi senza subire continue tensioni politiche che nulla hanno a scevedere con un organismo di garanzia siamo sicuri che i presidenti di camera e senato sapranno maturare una saggia decisione spiegano da partito di salvini in precedenza dal pd era arrivata la decisione di disertare la riunione del copa sir spiegata in una nota le motivazioni sono riassunte all'interno di una lettera che le presidenti dei gruppi pd di camera e senato debora serracchiani e simona malpezzi hanno inviato nella mattinata di oggi ai presidenti di camera e senato il partito democratico ha rilevato una serie di profili di illegittimità nella prassi seguita dalla presidenza del copa sir per l'audizione odierna profili che sono stati oggetto di una iniziativa puntuale del rappresentante del pd in seno al comitato non avendo ricevuto assicurazioni circa la correttezza e la conformità alla norma della procedura seguita il partito democratico ha deciso di non partecipare a lavori che si ritiene possano essere inficiati nella loro correttezza formale insomma la lega grazie anche al pd torna all'attacco di urso e chiede nuovamente le dimissioni di tutti i componenti del copa sir e un nuovo presidente